Ben ritornati, ben ritrovati, 8 e 0, anzi, 8 e 10 in questo momento, ho aspettato che passasse i 5 secondi che ci tirano dell'8 e 10, 8 e 10 qui su Crystal Radio, sempre con Gudboni Milano, quest'oggi gli ospiti ci sono raggiunto un po' prima e abbiamo deciso di tirarli dentro e tenerli in trasmissione con noi fino alla fine, giusto Lorenzo? Facciamo un po' così, cambiamo un po' il programma tra seconda ora, anzi, vi commenterete con noi le notizie di Milano, va bene? Buongiorno Evamos, buongiorno Davide Micheletti, buongiorno, allora Evamos, abitué di questi studi di Milano News, di Crystal Radio, a presentarci una nuova mostra appunto che inizierà sabato, 11 novembre, aquars volume 3, perfetto. Con te Davide Micheletti di Enoteca Schumann Radical Wine, che collaborerà appunto alla realizzazione di un ottimo vernissage, giusto? Vinessage non si viene da dire in questo caso, no? Buongiorno Davide Buongiorno, buongiorno, noi saremo partner, saremo lì presenti insomma in sostegno Eva, la mostra, aquars 3 appunto, Tutta la nostra, diciamo, selezione per quanto riguarda l'Enoteca parla di vini naturali, quindi il tema ambientalista dell'acqua per noi è molto importante. È interessante, vini naturali, che non dicevi, vabbè, il vino è naturale, il vino è... e invece no, ahimè, non è più così, giusto? Purtroppo ci sono tante cose, non è più solo così, purtroppo questo aggettivo che è stato cognato nel tempo, che noi di Schuma abbiamo poi definito radicale, abbiamo cambiato un po' l'impostazione della parola naturale, viene dal fatto che, per quanto riguarda il vino, ha tante, come dire, sfaccettature diverse, si possono usare degli ingredienti legali, enologici, per cui il vino non è più naturale. Invece voi garantite che quelli che selezionate voi sono... Sì, esattamente, si sono... Dov'è l'Enoteca Schuma? Siamo in Piazza Firenze al 4, a Milano... Ah, ma ho capito che qual è Piazza, adesso... tu che sei della zona, hai capito? No, non ho capito... No, perché lui, Bovisa, ah, lui oltre... No, no, balsico moltissimo Piazza Firenze, non ci ho mai fatto... Quanta borghesia ormai in Bovisa, questo è il tema della giornata, eh? Sono spesso in Piazza Firenze. Eh sì, non fa che cosa, chiedere l'emosina cosa stai facendo, cioè... Comunque... Schuma, questo nome è un acronimo? è anche un acronimo ma soprattutto in dialetto milanese si pronuncia schiuma e tutte le volte che nella vecchia Milano si stappava una voglia di vino si diceva schiuma è un modo per dire letteralmente sarebbe tradotto schiuma ma è un modo conviviale il vino è qua, è per noi, è vivo e godiamo, ne facciamo festa il significato è quello ed è anche l'acronimo di musica perché il mio socio che è con me in Enoteca è stato per tanti anni cover band e batterista quindi abbiamo unito un po' le due passioni cover band e le tue grandi passioni perché mi tiri sempre in ballo per cavolate perché sennò ti metto fuori dallo studio e cosa ti tengo qua a fare oggettivamente Eva, terza edizione di Aquars cosa ci sarà di nuovo in questa terza edizione e cosa invece ci portiamo dietro dalle vecchie edizioni, cioè la tradizione di Aquars allora ci saranno sicuramente i nomi nuovi di artisti emergenti artisti internazionali, abbiamo un po' di artisti americani questa volta per me che sono appena tornata da New York esattamente ieri com'è andata? molto bene e sei attratta a fare la maratona? non tu ma chi racconta? tra l'altro dai sono veramente sono molto fiera di Marco ha fatto ha fatto meno di 4 ore quindi 3 ore 59 però 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 niente vale meno di 4 ore insomma no è un buon risultato sicuramente per lui che è la sua prima maratona è una bella cosa prima maratona? beh cavolo prima maratona prima maratona a New York complimenti allora Marco complimenti davvero wow 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 prima volta a New York anche tu? eh? era la prima volta di New York anche tu? sì 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 quanti musei ti sei vista? due ah ok e hai preso spunto? sì 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 ok ok decisamente la cosa che unisce tutti questi artisti il tema della mostra che è l'acqua diciamo un tema molto attuale e importante ritengo che sia una cosa molto importante la salvaguardia delle risorse idriche e quindi tutte le opere degli artisti che esporranno alla quarsa sono incitrate su questo argomento ecco Davide mi raccomando niente battute sull'acqua quindi l'acqua fa ruggine queste cose qua che voi altri so che sembra strano dirlo ma l'80% di una bottiglia di vino comunque del vino è acqua è fondamentale fondamentale anche per il buon vino lo dirò a mio ronno la prossima volta che come al solito a tutti i prati no acqua fa ruggine sai che me l'ha detto Micheletti delle notte cascuma quindi mica lo sto dicendo io facciamo una bella cosa mandiamo un po' di musica poi torniamo sempre qui a raccontare appunto di Aquars 3 ci dice appunto anche gli altri artisti che saranno e poi tutte le coordinate per sapere dove sabato dobbiamo andare anche per assaggiare i buoni vini di di Micheletti e della sua e notte cascuma radical wine fa così non me l'aspettavo no no si ogni volta ci rimango male ma poi me lo ricordo che è così quindi quelli che applausano la fine quelli che applausano non c'è più quelli che mettono i drop in mezzo alle canzoni che sembra che ha saltato tutto invece semplicemente poi riparte con un battito di mani un battito di mani no the blessed madonna andiamo avanti 6 8 e 18 minuti con noi in studio arriviamo Davide Micheletti dell'Enotteca Schuma radical wine ti piace perché sono radicali quindi niente ti piace non vedo niente si si infatti illazioni sulle mie appartenenze politiche si si il tuo manifesto ormai Polidio che sta parlando avanti in questo utilizzo privato sempre 24 anni giusto 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 Eva allora dicevamo tanti artisti artisti che arrivano anche da lontano dai Stati Uniti poi chi altro chi altro troveremo e cosa troveremo allora oltre gli artisti oltre oltre le opere e gli artisti che saranno presenti molti artisti verranno tra l'altro a Vernissage quindi questa cosa mi fa molto piacere ci saranno inoltre due associazioni un'associazione tu conosci molto bene che sono Angeli di Navigli Angeli del Bello Simone Lunghi detto anche Angelo di Navigli perché è una un ragazzo molto di gamba che pulisce i Navigli e lui tira fuori le biciclette non solo ma l'oggetto più comune che trova nei acqui di Navigli penso che mi hai superato le 500 biciclette raccolte no 600 mi hai detto infatti siamo arrivati quasi a cifre elevatissime esatto e l'altra associazione invece che anche questa conosci si chiama Ambiente Arte Andrea Curcio che parlerà delle problematiche legate con con l'acqua eccetera il territorio tutto questo quando e dove allora il verniciatore della mostra si terrà l'11 novembre sabato questo sabato quindi abbiamo fatto apposta nel weekend quando la gente non lavora è libera è rilassata e presso il museo d'arte e scienza in via Quintino Sella 4 a fianco a Castello Sforzesco si affaccia sul Castello Sforzesco praticamente un museo davvero da conoscere da scoprire noi avevamo già avuto modo in altre edizioni nei tempi antichi faceva parte del complesso del Castello Sforzesco e c'è anche c'era adesso hanno chiuso un passaggio segreto tra il castello e questo museo si vede l'imbocco si vede infatti l'imbocco adesso è stato ovviamente chiuso per motivi di sicurezza volevano passare andare via potevano uscire dove adesso appunto c'è il oltre il fossato diciamo uscivano appunto dove c'è adesso il museo d'arte e scienza ricordiamo quindi sabato 11 11 dalle 5 alle 20 e 30 alle 20 e 30 appunto questo vernissage Davide ma come vi è venuta questa idea di aprire questa inoteca così ricercata però non è che avete preso vabbè dai facciamo ubriacare un po' i milanesi e via cioè non era quello sì insomma erano tanti anni che avevamo in mente insomma di aprire un'attività io sono almeno 10 anni 12 anni quanto meno che lavoro nella ristorazione soprattutto con le enoteche e soprattutto nel mondo di questi vini naturali radicali da tanti anni conosciamo un sacco di oltre di amici ma proprio di vignaioli abbiamo fatto un'esperienza sul campo per quanto mi riguarda insomma ho fatto tutto dalla sala ho insegnato per 5-6 anni i corsi da sommelier e poi insomma c'è stato tempo per ragionare su quale altra attività noi avessimo potuto intraprendere e lo sbocco più naturale era aprire un'attività insomma un'enoteca un'attività commerciale per dare poi anche spazio a tutte le conoscenze e tutte le esperienze che abbiamo maturato in questi lunghi 10-12 anni insomma ho cominciato all'età di 20 anni durante il periodo universitario e da lì il vino non mi ha più abbandonato hai visto quel caso è di minimi quando fa buon sangue il vino e io invece ho fatto il processo inverso con l'alberghiero hai visto però ho usufruito di tanti tureno gastronomici messi a disposizione dall'istituto Carlo Porta che ringrazio diciamo che San Colobano all'Ambro ti conoscono molto bene credo cioè fuori da tua foto lui non può entrare in certe no no si scherza si scherza mica tanto comunque gli artisti mi dicevi appunto arrivano un po' dappertutto posti più lontani cosa di Italia che mi piace sempre fare questa cosa qui no diciamo il posto più lontano il posto più lontano sicuramente sono Stati Uniti ok abbiamo tre artisti dai Stati Uniti e mi dicevi scusa prima mi sono distratto un attimo quanti artisti avete che espongono 50 ok 50 artisti un bel numero un bel numero un bello tondo ma insomma che fa capire quanto materiale vedremo pittura soprattutto c'è anche altro allora ci sarà videoproiezione quindi si ma di un artista americana quindi ci saranno proprio anche video art si 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 poi ci sarà digital art e si maggior parte sono le opere pittoriche ok sempre sul tema appunto dell'acqua Lorenzo tu qualcosa che volevi abbiamo citato Simone Lunghi ah si vai citiamo il fatto che domani 10 novembre 2023 dalle 7.30 alle 8.30 nuova iniziativa di proteggimi appunto quell'iniziativa che porterà i ciclisti a disporsi in in fila indiana diciamo a protezione della ciclabile di via le monza per chiedere maggiore sicurezza sulle strade milanese ecco dove sempre in via le monza ce lo stava raccontando appunto nei giorni scorsi il buon lunghi appunto che ricordiamo appunto questa richiesta da parte di molti vuol dire di avere una maggiore sicurezza sulle strade e appunto proteggimi crea questa sorta di si parla di ciclabile umana ci si dispone in fila indiana appunto a protezione della ciclabile per chiedere maggiore sicurezza poi la ciclabile di via le monza ultimamente è stata anche bersagliata sui social da video in cui sostanzialmente si mostra la realtà effettiva ossia che viene usata come doppia fila come doppia fila e quindi è complicata benissimo allora noi adesso andiamo con un po' di musica ci fermiamo per una piccola pausa anche per due consigli per gli acquisti e poi torniamo sempre qui con i nostri ospiti Evamos e Davide Micheletti a fra poco e adesso Elodie con affari spenti questa è quella che mi piace tanto a me quella che è tutta più o meno adesso anzi la fa meglio lei e anzi come si dice in questi casi che fa più o meno così Rauv Alejandro Baby Hello insieme a Bizarrap Bizarrap conosci? no ma ci sono ah c'è una vocale ok si 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 pensavo fossero un po' di battitura inizialmente invece no no è Bizarrap Bizarrap con noi con noi sempre qui i nostri ospiti Evamos Davide Micheletti per presentare appunto Aquars 3 dicevamo appunto sabato il Vermissage giusto? 11 novembre sì alle 5 al Museo d'Arte e Scienza Museo d'Arte e Scienza tanti appuntamenti però durante il Vermissage tra cui? tra cui c'è iniziamo la serata con la presentazione del libro di Emanuele Bragozzi alle 5 alle 5 e mezzo scusami quindi lui porterà il suo libro e racconterà com'è scritto molto interessante l'ho letto quindi consiglio a tutti gli amanti dei libri della scrittura a venire ad ascoltare Emanuele che racconterà in prima persona quello che ha scritto tu l'hai intervistato se non sbaglio Emanuele Antonio Bragozzi si pensate che colleghi nella nostra vita io e lui a un certo punto si una storia pazzesca una storia di un bambino cresciuto nei boschi del Cile ha vissuto per tre anni in un bosco un piccolo una storia molti lo chiamano il Mogli Cileno una storia un po' bellissima che poi racconta bene anche nel suo primo libro appunto Il Bambino Invisibile e adesso è uscito un altro che si chiama Per Sempre nella sua continua ricerca della bellezza questo lui dice sempre che è stata la bellezza salvarlo perché quando si è ritrovato nel bosco da solo per tre anni dall'età mi sembra di 5 anni a quegli gli otti agli otto anni scusate e sta la bellezza della natura a salvarlo dice poi dopo giocava con animali è una storia incredibile una storia veramente incredibile Manuela Antonio Bagonzi appunto la provate vedere qui di Bendetto sabato a che ora? alle 5 e mezzo alle 5 e mezzo potete venire alle 5 e dalle 5 c'è già la mostra si apre le porte il museo si apre le porte e invece alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale con tanti ospiti tra cui ci sarà anche Davide e ci sarà anche la art consultante divulgatrice digitale Elisabetta Roncati che affronterà un po' diciamo la parte un po' critica dell'argomento della mostra e ci sarà anche il suo testo nel catalogo tra l'altro e poi come abbiamo detto ci saranno due associazioni culturali di Simone Lunghi e Angelo del Bello e Angelo dei Navigli e poi Andrea Curcio con l'associazione Ambiente Arte Acqua scusami è tutto legato all'arte no Ambiente Acquallus esatto e in più facciamo anche una 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 cerimonia di premiazione di sette artisti vincitori scelti dalla nostra giuria ah vedi vedi porterete alcuni vini tu dicevi per capire e conoscere meglio le vostre espressioni diciamo se dovessi però appunto pensare a un vino da collegare a un evento del genere a una mostra che appunto racconta per la terza volta appunto la terza edizione di Acquarse quale potrebbe essere? ma la scelta è molto ampia nel senso che il senso diciamo etico che ci sta dietro alla tematica ambientalista quindi dell'acqua riguarda un po' tutta la sfera del mondo del vino naturale certamente magari potrei scegliere qualcosa che è molto più vicino magari una zona marina appunto per quanto riguarda gli oceani il mare stesso quindi magari un vino del sud o comunque un vino che possa avvicinarsi alla costa ecco quindi un vino magari anche bianco molto marino molto salino ecco nella nella sua accezione questo sicuramente che cosa dobbiamo visto che parlate di vini naturali adesso so che tu hai detto giustamente ho studiato quindi insomma non sarà facile dirlo in poche parole in suo punto per non riconoscere ma da cosa si può capire quando un vino magari è più o meno naturale e in suo punto che cosa comporta questa cosa del naturale o meno ci sono spesi fior fior di critici di enologi di agricoltori e anche molti dibattiti ci provo a riassumerlo in poche parole tra l'altro avremo anche una degustazione mercoledì prossimo il 15 su questa tematica diciamo che la parte l'aspetto del vino naturale dunque radicale riguarda soprattutto la vinificazione se noi parliamo di agricoltura e parliamo quindi di vigna non solo mi viene in mente anche lì la tematica dell'acqua serve per insomma per far star bere una pianta la pianta devono bere se parliamo di vigna la parte dell'agricoltura biologica è non usare pesticidi diserbanti quando si parla di vino naturale una vigna deve essere in biologico e la vinificazione non deve comprendere determinate lavorazioni o aggiunte di prodotti enologici come lieviti quindi fermentazioni spontanee non devono essere filtrati o chiarificati i vini e sicuramente devono avere una bassa presenza di solfiti quegli allergeni quelle cose che ci fanno venire tanto il mal di testa dopo una serata che magari abbiamo anche un po' esagerato quindi non è una leggenda c'è proprio quello che in realtà ti fa stare male diciamo quando un po' appunto bevi il vino naturale non ti fa star male il vino naturale si all'eccesso tutto diciamo stroppia però è sicuramente un vino molto più sano più leggero più digeribile e sicuramente il mal di testa non è assicurato ecco come invece per gli altri come invece per gli altri qual è il tuo vino preferito allora io non sono per niente un esperto dico sempre che il vino buono la fa la compagnia io dico questa roba qua un ottimo tavernello il buon vino lo fa la compagnia non farlo entrare non farlo se lo vedi passare tiragli la bottiglia vuota perché lo sprechiamo del vino addietro tira ma no ma tu dove in avanti passi con un caschetto quando passi da Piazza Firenze te lo dico non essendo un esperto piuttosto che dire una cavolata dico appunto l'importante è che stai in compagnia il vino fa buon sangue il buon vino fa la compagnia poi è chiaro ci sono più le mezze stagioni quando mi capita anche a me di andare in enoteca o no vedere il genere sto più a ascoltare anche la narrazione del vino è diversa da locale a locale chiaramente se vai in un enoteca aspetta scusami mi fa velocissimo non ci interessa no scherzo se vai in un enoteca c'è una narrazione molto diversa rispetto a un altro locale in cui magari ti prendi un bicchiere di vino e ne hanno due ieri sera appunto che sono uscito perché c'era a comprare mia mamma auguri con la mamma auguri grazie grazie abbiamo cioè hanno preso il vino e hanno provosto questo vino che si chiama Verona mi sembra una cosa del genere che non è un Valpolicella ma ci si avvicina non ho capito bene che cosa volesse dire forse c'era di mezzo non so un paio di vie per cui non poteva entrare nella zona del Valpolicella non ho capito una lavorazione non lo conosco prometto la lavorazione non è completa come quella del Valpolicella quindi non può rientrare nelle richieste che il comitato Valpolicella metterà non so c'è una zona azione insomma la DOCG prevede che possa essersi chiamato Amarone entro una certa diciamo area geografica probabilmente era fuori dall'altra parte dall'autostrada era quello andiamo con un po' di musica e allora beviamo un po' di vino lo dice anche Adele con I Drink Wine dal 2022 Adele I Drink Wine qui su Crystal Radio sempre a Good Money Milano poi torniamo con i nostri ospiti sempre qui sempre qui insieme no non parte parte di Simply Red che comunque hanno a che fare con il vino ve lo spiego dopo e l'avevo messo apposta Simply Red Stars poi ve lo spiego perché Simply Red hanno a che fare con il vino Simply Red con Stars non è stata messa a caso parlavamo di vino parlavamo di vino e tu sai che Mick Hacknell che ho dovuto leggerlo perché non so voce dei Simply Red ha avuto fino al 2015 2016 una tenuta in Sicilia in cui produceva del vino è usuale tra i cantanti lui è uno dei primi però sappiano lui è uno dei primi che infatti poi dopo l'hanno seguito Sting e molti altri lui è uno dei primi ma soprattutto sai come si chiamava la tenuta da cui uscivano i vini di Mick Hacknell dimmelo il cantante inequivocabile inequivocabile la cosa bella è che se tu cerchi su google e scrivi rosso Simply Red a volte viene fuori il cantante a volte viene fuori il vino cioè la gente non sa se stiamo parlando del cantante no tra l'altro Simply Red che lui aveva già detto che non era semplicemente perché lui fosse rosso di capelli ma che si faceva anche al Red Wine cioè al vino rosso anche neri per caso ah no pensavo anche gli Ubi Forti anche gli Ubi Forti cantavano Red Red Wine ad esempio quindi insomma il vino è sempre stato cantato assaggiato e cantato forse perché il buon vino è la buona compagnia ma va a quel paese ma va ma Masieri c'è che Sara si vergogna quando lo dice fa bene fa bene Sara sappiamo essere appunto la badante che si porta in giro Masieri cioè che lei porta in giro Masieri a far venire le ore d'aria e insomma si vergogna come non so che cosa perché si condoscevano queste uscite va bene comunque comunque ricordiamo bene Eva allora tutte le coordinate per venirvi a conoscere meglio appunto l'11 di novembre e poi fino a quando dura e come si fanno anche cioè se ho l'11 o l'impegno non posso come posso fare per venire allora appunto l'11 novembre abbiamo la la serata di opening dalle 5 alle 20 e 30 presso il museo d'arte e scienza in via Quintino Sella 4 a due passi del castello Sforzesco quindi siamo proprio in centro però la mostra non finisce naturalmente l'11 sera dura fino al 17 novembre quindi se qualcuno non riesce a venire alla serata di Vernissage anche per assaggiare un ottimo bicchiere di vino della denoteca Shuma può venire nei giorni successivi tranne domenica che è il 12 naturalmente domenica il museo è chiuso si riposa il settimo giorno e va a mostri prosopi dicono le sacre scritture dicono così il 12 novembre è il giorno libero quindi dal 13 al 17 si può venire tranquillamente al museo dalle nei orari di apertura del museo si si basta dare sul sito del museo si trova tutto Davide facciamoci degli amici il vino secondo te più sopravvalutato che c'è lo devo dire lo dico lo dico secondo me potrebbe essere sicuramente un nome di una grande maison magari come un sassicaio o un tignanello secondo me sono grandi nomi c'è molta curiosità potrebbe essere un vino grandemente sopravvalutato ma tutti i sassicaio dicono non diciamo i nomi nel senso tutti i sassicaio dicono un po' troppo no purtroppo il sassicaio è un monopole quindi c'è solo un'azienda non diciamo niente invece il vino diciamo più sconosciuto ma che secondo te bisognerebbe scoprire ce ne sono tanti vero in Italia abbiamo la fortuna di avere tanti vitigni e quindi tanti vini sconosciuti io sono molto affezionato diciamo al al vigneto Italia perché non finisco mai di scoprire qualcosa di nuovo abbiamo tanta ricchezza culturale e questa varietà di vitigni mi permette sempre di scoprire qualcosa di nuovo secondo me ad oggi insomma uno degli ultimi così uno degli ultimi vini un po' più particolari un po' più poco scoperti penso alla Romagna con la sua uva Centesimino di cui abbiamo anche un ottimo passaggio Centesimino Centesimino è una straduta particolarissima io ero rimasto al millesimato un centesimino non sapevo di se stesso è un uva molto particolare poi insomma adesso stanno riscoprendo in Abruzzo la cococciola insomma ce ne sono tantissimi veramente tantissimi in Italia siamo pieni e ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo e questo è buono però insomma magari anche i vitigni che si pensavano persi riescono invece a tornare e soprattutto con questi cambiamenti climatici i vecchi biotipi i vecchi cloni o i vecchi vitigni possono essere anche una risposta più resiliente ai cambiamenti ah vedi quindi tornare appunto alle origini in realtà fa sì che quel vitigno si riesca ad adattare meglio ai cambiamenti piuttosto che quelli che abbiamo creato non so se è la parola giusta innestato non so bene come funzioni in futuro sostanzialmente generalmente si può andare bene non è in assoluto però va bene dai facciamo vini californiani ce ne sono tanti bella risposta questa bella risposta adesso so che sono california australia giusto ormai si parvino anche in asia anche in nord europa ormai c'è molto interesse sempre di più ormai si può coltivare vigna australia nuova zelanda a sud di londra insomma tanti posti dove prima non si poteva questo perché forse sì il cambiamento climatico forse perché delle tecniche diverse hanno permesso di fare questo diciamo ecco poi qualità è altro discorso però si fa vigna Eva tu quando è che hai passato dalla tua passione per la vodka alla passione per i vini la tua origine russa com'è che no no in realtà non ero mai fan di super alcolici cioè sì assaggiata o in buona compagnia perché la buona vodka è la compagnia così si dice dalle parti di mosca no giusto l'unica cosa che non ho mai capito perché cioè voi bevete la vodka come un caffè cioè la vodka si fa così via si fa così bottiglia direttamente tutta giù capito no lo shot si butta giù invece noi lo sorseggiamo vabbè una volta adesso ormai si va giù di shot veloci anche tu non so tu la vodka la bevi? qualche volta mi è capitato sì non è non è mi raccomando non c'entra niente buona compagnia se devi avere la vodka deve essere di e soprattutto la si accompagna con i cetriolini giusto? esatto questa la sapevo questa la sapevo oppure con un pane nero con la ringa sopra uuuuh verrai solo per i cetriolini una panela ringa una volta che la lascio da parte ma mi scofano tutta la ringa sono tutta me la bagno perché lui è un amante ci sta venendo fame sì sono un grande amante delle ringhe sì sì e invece quanto ha influenzato il buon vino nel rimanere qui in Italia cara mia Eva eh? sicuramente la cucina italiana il vino italiano sicuramente ha fatto ha fatto un colpo per farmi venire qua perché prima naturalmente venivo qua per la vacanza sono venuta prima tre quattro volte poi cioè in realtà dalla prima volta ho già iniziato a pensare come farmi come far rimanere qua sì sì l'obiettivo era quello l'obiettivo finale era quello penso che quando sono venuta per la prima volta qua per vacanza era agosto cioè 40 gradi che bel caldo bellissimo perché in San Piotrburgo in quel momento c'era pioggia e 17 gradi pensate allora dicevamo prima l'ho detto adesso vediamo finalmente l'ho rimessa in scaletta perché volevo farvelo ascoltare di vino parla anche la bravissima Adele nella sua canzone I drink wine alle 8.53 qui su Cristal Radio scusa Adele abbiamo la sigla da mandare perché siamo in chiusura ma prima di chiudere ultima cosa da dire importantissima su un premio fondamentalmente che darete a un artista esatto allora praticamente di 50 artisti l'enoteca Shuma sceglierà un artista bravissimo secondo loro quindi è responsabilità tutto loro che vince un premio speciale ovvero la mostra personale presso l'enoteca Shuma l'esposizione presso l'enoteca beh complimenti grazie siamo fieri complimenti prima di chiudere invece un'ultima notizia che arriva dal comitato Novasca dal comitato Novasca che sono stati ospiti un paio di giorni fa qua ai nostri microfoni perché ieri si è tenuto l'incontro con il direttore lavori DMM l'ingegner Franco Galli e sostanzialmente i coloro che manifestavano hanno sostanzialmente ricevuto tra virgolette risposte ossia ci sono molti vuoti tra lente regolatore piano collaudi piano manutenzione si stanno parlando i vari esatto i vari ingranaggi vi invito a recuperare il video di Matilde Minella sulla pagina facebook comitato Bresso Novasca e allora dobbiamo salutare allora grazie mille e vamos grazie grazie a Davide Micheletti grazie a voi che ti troviamo ricordiamo dove in piazza Firenze 4 a Milano in Noteca Shuma Noteca Shuma Radical Wine no grazie a voi